Mi è arrivata questa trapunta invernale, rifinita in tessuto jacquard, quindi un tessuto da arredamento, con questo occhio di pernice a rilievo, vedete, leggermente cangiante, è un tessuto molto raffinato, l'imbottitura è in poliestere analergico, è di 350 grammi al metro quadrato, quindi una trapunta idonea per l'inverno e anche molto calda, è made in Italy, importantissimo, vedete come è rifinita, è molto bella, ed è trapuntata a capo, il bordo è rifinito, vedete, così, tutto così, e la rotondità in fondo ai piedi, vedete, è rifinita davvero tanto bene ed è molto elegante.